Lungo vertice in via Genova, poche se non zero soluzioni. La vertenza GAM vive un altro momento drammatico. Poche settimane alla scadenza dei sei mesi di cassa integrazione autorizzati in primavera e all'orizzonte non ci sono prospettive. In presidio davanti a Palazzo Vitale una delegazione dei 230 lavoratori coinvolti ha atteso a lungo notizie. Il lungo vertice di CGL CISL, Will, RSU, col presidente della regione Toma e l'assessore a lavoro Mazzuto, si è chiuso con impegni su più fronti. Su quello nazionale, intanto, con la richiesta delle organizzazioni di bloccare in qualche modo i 40 milioni destinati al contratto di sviluppo che avrebbe dovuto essere firmato con Amadori per il macello, alla cui ristrutturazione però il gruppo di Cesena ha rinunciato. E poi col pressing per ottenere la convocazione della task force al Ministero dello Sviluppo. Ma non solo. La regione si è impegnata di recente con un ordine del giorno votato in consiglio a una serie di azioni in favore degli Xarena, ma su questo fronte non è neanche ancora chiusa la fase di profilazione dei dipendenti, utile a capire quali siano per ognuno le misure più adatte. C'è stato l'impegno, finalmente, diciamo noi, di mettere in atto i provvedimenti per quanto compete la struttura regionale, per l'attivazione delle politiche attive e quindi finalmente abbiamo ottenuto date certe per la profilazione dei lavoratori. Entro lunedì dovremo avere un'azione concreta da questo punto di vista che ci permette anche di andare al Ministero quando saremo convocati con qualche proposta concreta per quello che è il futuro, non solo della gamma, ma di un'area più vasta che riguarda l'intero futuro dell'area di crisi complessa molisana. Cassa integrazione c'è una flebile speranza, mettiamola così, voglio essere cauto e prudenziale. Chiaramente, ormai si sa, è vincolata alla continuità lavorativa, noi ce ne stiamo mettendo tutta ed anche per questo, lo dico da sindacarista, stiamo provando anche a mantenere un po' di toni bassi rispetto a questa flebile speranza di manifestazione di interesse, l'unica, ricordiamola, attiva in area di crisi complessa che ha attinto da un finanziamento pubblico e che quindi presuppone che ci siano anche dei vincoli sulla rioccupazione e sul riassorbimento dei livelli occupazionali di quanti sono stati spursi dal mondo del lavoro. Noi ci siamo, chiaramente ci lavoreremo incessantemente, c'è un'apertura da parte del Ministero del Lavoro ma chiaramente credo che su questo dovremmo riaggiornarci necessariamente quando ci sarà una composizione non solo tecnica ma anche politica strutturata a livello di governo centrale. Grazie